L'unico pensiero che mi viene in mente stamattina è come facciamo a dare la pentola d'oro a Guglielmo, visto che lui era da noi e forse lui la merita più di noi. Non Gualtiero, Guglielmo ha detto. Non sbaglio. Utilissimo questo incontro anche per sentire un po' le riflessioni, anche se comincerei a fare una cosa simile alle quote rosa, cominciamo a far parlare gente che ha 30 anni, perché se parliamo noi di 60 anni, devo dire, mi sento un po' patetico. Dal 23 di agosto ad oggi ho fatto circa 80.000 miglia in aereo, agli incontri, forse ero quasi sempre più vecchio, avendo 60 anni, quasi sempre. Quindi magari diamo un po' di spazio anche a quelli di 40 anni, possibilmente anche a quelli di 40 anni italiani che lavorano in giro per il mondo, ce ne sono di tanti e di bravissimi, che bisognerebbe cominciare a vedere come riportarci in Italia. Ma il tema di oggi, prodotto, regole e mercato, prodotto, regole e mercato, vabbè, sulle regole non dico nulla, sapete come la penso, ho detto più volte, ma ormai, come mi diceva l'altro giorno un grande investitore libanese, dice sai, investiamo in Libano, c'è la guerra da tanti anni, ma noi ci conviviamo, investiamo in Italia, abbiamo quello che abbiamo, dall'aprile 2010, il sistema delle regole è stato mutato, attenzione, non è che non fosse giusto mutarlo, non era giusto mutarlo retroattivamente, perché tu fai una regola, tu investitore valuti quella regola, se quella regola ti consente di operare, di avere i tuoi margini, i tuoi operi, ma non è che poi me la cambi, questo è il problema. E questo è stato, ma oggi sono delle regole, ho visto, c'era nei giorni scorsi, un intervento del governo, credo Aldo e qualche altro, anche noi stiamo intervenendo, dicendo guardate mettete delle regole, ma principalmente mettete le fisse, non variabili a secondo, e quindi sul tema delle regole c'è da dire questo. Il mercato, il mercato immobiliare secondo me in Italia non c'è, cioè fondamentalmente non abbiamo mercato, noi stiamo diventando asset manager di un grande investitore istituzionale, diciamo magari vediamo qualcosa in Germania, perché in Italia c'è abbastanza poco, dei nostri partner hanno chiuso un ticket il 5 agosto, 130 milioni, ma una fatica terribile, quindi noi non abbiamo mercato, non abbiamo mercato, io ritengo, adesso ho incrociato Stefano fuori, quindi ritengo senza responsabilità di nessuno, ritengo che il mercato non sia il mercato dei beni pubblici. Sì, bellissimo il progetto di valorizzazione che oggi c'è sui giornali, della struttura, cos'è, Piazza Sempione, Largo Sempione, ma vi sentite di andarla a proporre a un investitore estero? Ma di che stiamo parlando? Forse dobbiamo fare uno sforzo, e qui quelli che hanno un po' più di gestione di patrimonio, per ricreare mercato, per ricreare mercato, secondo i ticket e gli standard, anche perché i due o tre investimenti che sono stati fatti in Italia corrispondono a una logica che ha un suo senso. Giustamente, rispetto al 2009, quando gli investitori più accorti ci dissero che per loro PIGS non era Irlanda, ma era Italia, oggi il ragionamento che fanno è ma tu investiresti in Italia al 9,5% o in Germania al 6,5% se investiamo full equity? Preferiamo, dicono loro, investire in Italia al 9,5%. Quindi qui rientra un ragionamento fatto in un precedente meeting del repricing, è ovvio, perché se pensiamo di vendere gli uffici al 5,5%, i centri commerciali al 6%, con i tassi che abbiamo non li venderemo mai. Quindi sostanzialmente lo sforzo ha fatto oggettivamente e noi ci stiamo lavorando, nei prossimi giorni chiederò di vedere dei colleghi se siamo in grado, interessati, avendo la disponibilità a forti investimenti, a creare un mercato vero, non un mercato finto. Gli strumenti, l'Eire, l'Eire, la provocazione di Stefano, abbiamo parlato con Inti un po' di settimane fa, abbiamo sicuramente la necessità di uno strumento, perché se no l'unico strumento di contatto rimane il Mipim, e adesso l'Expo Real. Io che ci sono andato una volta solo in vita mia, mi ritrovo che ci devo andare per forza, perché tutti vanno all'Expo Real. Allora io non dico che l'Eire diventare come il Mipim, andrebbe già bene se diventasse come l'Expo Real per certi versi, però lì di nuovo il mercato, c'è il prodotto, c'è il prodotto magari più localizzato, ci sono gli investitori, quindi lo sforzo è sulla generazione di prodotto, perché se ci fosse il prodotto, poi gli investitori ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo. Quindi buona l'idea, probabilmente dando un po' di sprint proprio su questo discorso del prodotto. Qual è il rischio oggi? Il rischio oggi è effettivamente quello che citava Giovanni Vajera, il problema del tema degli immobili delle banche. Attenzione, qui la situazione è molto complessa, io non ho idea, non ho neanche un consiglio da dare, cioè io non lo so come si risolve questo problema, ma se noi abbiamo che i dati ufficiali sono 130, 140 miliardi, 150, secondo me, molti di noi abbiamo visto un'operazione di cessione di performing loans, performing, cioè quindi credito buono di 11 miliardi, siamo tornati indietro e abbiamo detto guardate che più di metà di questi non sono più non performing, sono non performing, ah no, per noi questi sono buoni, sono tutti immobili molto grandi che voi conoscete e sostanzialmente il problema io non lo so come non lo so se lo sa Aldo o se qualcuno di voi lo sa, io cosa consigliare alle banche non lo so, sinceramente. Non possono tirare giù i valori perché se no andrebbe altro che un monte di paschi, andrebbe un libri tribunale, non sono in grado di fare delle azioni dinamiche di parte di sviluppo perché sono asserragliate ma questo io lo vedo il vero problema il vero problema del nostro mercato e su questo forse ecco dovremmo pensare qualcosa vogliamo fare una bad bank solo immobiliare non ho idea ma questo rischia di inquinare anche perché qual è il punto che se uno fa l'operatore serio come lo fa il dottor Albanese fa l'operatore fa un suo sviluppo eccetera eccetera e poi quell'altro gli ristruttura il debito al 40% e quella è concorrenza sleale allora io come faccio a dire a uno investi 100 milioni in questa cosa in questo centro commerciale a fianco c'è un centro commerciale a 3 km qui viene a ristrutturare il debito e diciamo l'investimento è totalmente diverso questa è concorrenza sleale quindi il rischio nostro fortissimo è questo cioè di essere su un mercato che potrebbe avere un crollo dovuto al fatto che trovi una soluzione come spesso accade in Italia no sai che si va uno si sveglia una mattina e dice vabbè allora facciamo questa cosa bad bank svalutiamo tutto eccetera e poi rimettiamo sul mercato e noi che facciamo con i nostri fondini tutti ordinati con i nostri veicoli tutti a posto eccetera quindi situazione come è in sintesi allora voglio dire abbiamo un tema riassumo i concetti di come dare a lui la pentola d'oro e questo magari ci inventiamo un metodo perché secondo me è l'unico che fa un'azione positiva generalista e non sparge veleni su questo mercato un po' complicato primo un problema di età necessita e purtroppo il nostro mercato non ci ha aiutato necessita un inserimento di ricambio generazionale io stamattina non litigavo discutevo con il mio collaboratore io ho fatto 80.000 miglia e tu ti richiudi di farne 8.000 quindi abbiamo un problema proprio di generazione di competenze di tutto un mondo che gira le regole possiamo fare poco come Aldo mi ha insegnato alla fine siamo riusciti neanche a aggiustare due regole sui fondi però rappresentiamo quelle che sono e il tema più complicato è la definizione del prodotto dove colgo questa sede per diciamo lanciare un messaggio a quelli che sono gli operatori inventiamoci un riciclo del prodotto un riciclo del prodotto mettiamoci insieme così un prodotto perché il mercato internazionale ce lo recepisce ma deve essere un prodotto trasparente qualificato e in linea con i standard e i pricing di mercato non può essere su dei pricing di 5 anni fa che oggi diciamo la verità purtroppo non esistono più grazie 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 grazie